Ciao a tutti, io sono Wolterozz e bentornati finalmente in un nuovo let's play ASMR di League of Legends. Ragazzi, dopo tanto, tanto tempo sono riuscito finalmente ad organizzare un po' la mia vita e a portarvi un gameplay di League of Legends. Allora, quest'oggi saremo con Rakan e con Jin. Ok, perfetto, con Rakan e Jin. E avremo contro una Kaisa abbastanza complessa come sempre e un blitz, un classico e insormontabile blitz. Ok, top ci sarà Bukong contro Irelia. In giungla ci sarà una sfida fra Evelynn e Nocturne. Mentre Mid ci sarà Ione contro Lux. Ok, direi di iniziare questo game con la W. Così diamo billing al jungler e anche alla DC. Come sempre auguriamo un bel Good Luck e Fun All. Perché sapete che nel mio canale non c'è spazio per il Toxic. Sempre calmi, tranquilli e soprattutto rilassati. Ok, andiamo in bot lane insieme a Jin. Vedo che blitz ha l'ignite, quindi dovremmo fare un pochettino di attenzione. Credo che giocheranno in modo aggressivo. Vabbè, staremo a vedere. Bravo Jin a prendere tutti e tre i minion principali. Spero come sempre che la musica sia di vostro gradimento e che lo stream sia rilassante. Forse vogliono giocare un po' più passivi. Attenzione alla grab di blitz. Nel frattempo top sembra tutto regolare, mid. Sembra anche abbastanza tranquilla. Ok, restiamo in questo brush così. Vediamo di counterare un attimo e di provocare blitz a scaricare il grab. Così che non ce l'ha. Attenzione. Eccolo qua. Benissimo. Proviamo un pochettino a fargli male. Ok, ho sbagliato. Ok, ok. Hanno usato l'ear. Attento Jin. Torno indietro. Purtroppo non ho abilità. Ma attenzione. Se non ci muore. Ok. Ok. Non male. Ok. Ok. Proviamo a prendere lui, ma... Va bene, va bene. Ok. Non è andata malissimo, dai. Mi aspettavo qualcosina di peggio. Hanno usato... Blitz ha usato il flash e non sono sicuro che anche... Anche... Anche Kaisal abbia usato. Proviamo. Ma dai, ma... Ok, ok, ok. Ok. Volevo provare a stunnare di W, ma... Mi ha counterato con la... Con la E. Metto una word qui. Bravo, bravo. Bravo, no, turno con job. E andiamo avanti così. Prendiamo che manca... Non ci credo. Ragazzi, ho fatto un... Piccolo errore. Oh, attenzione, attenzione. Va bene, prendiamo le scarpe. È una... Una word. Ho fatto un piccolo errore. Che purtroppo è costato caro. Eh, quindi... Sorry. Ho sbagliato... Proprio le dinamiche di movimento. Purtroppo. Eh, sì. Però, non male, dai. Almeno... Abbiamo dato una kill a Blitz e non a Kaisal. Guardiamo sempre il lato positivo. Nel frattempo, Meet, mi sembra... Tutto a posto. È top anche. Aspettiamo la DC e torniamo subito in posizione. Mi meraviglio del fatto che questo Blitz stia giocando così passivo. Però ci sta forse una tecnica con cui si trova bene. Restiamo un po' più nella retrovia perché ho paura di un gank, di Evelyn. Porterò per prima la V-doppia perché è ottima sia per scappare che per ingaggiare. Credo sia la più funzionale di Ragant. Diamo una manita qui. Forse, mi sa, avrei dovuto mettere l'altro oggettino. Però... Niente, giocano molto, molto safe. Vediamo. Di non farci grappare di nuovo. E niente, Meet. Purtroppo, io ne ho preso una kill. Però va bene, va bene, io vorrei farle un po' di monete per l'oggettino, ma mi rendo conto che... Mamma mia, mi rendo conto che... Aspetta, aspetta, vieni, vieni, vieni. Bravo, così vai di Night. Vai, un altro colpo, un altro colpo. Niente. Niente. Un po' sfortunati in questa occasione. L'ho avuto un po' usato anche l'Ignite. Diciamo che è una kill, avremmo dovuto prenderla, però... Va bene così. Nel frattempo lei comunque sta perdendo abbastanza farm. Un po' di fastidio, così. Qui. Così almeno facciamo in modo che... Kaisa prenda meno farm di Jin. Non ne becco una oggi di Q. Ok. Blitz. Chissà se sta arrumando oppure no. Nel frattempo prendiamo qualche... Eccolo qua. Ok, finalmente ho beccato da Q. Mettiamo una bella urda al drago, ah. Attenzione che metto una urda qui. Ok. E' già aiutare lui con il drago, mi sa. Fai attenzione, Jin. Sì. Iniziamo a prendere obiettivi che è sempre importante, ragazzi. Soprattutto quando sono free, come in questo caso, in cui missa sia la mid che il jungler avversario. Adesso, magari da qui, potremmo... No. No. Niente. Ho dovuto flashare. Spero vada meglio. Senza di me. Niente. Vabbè. L'ho giocata male, male, male. Purtroppo. Oh. Niente. Niente, vabbè. Ok. Ok. Ho sbagliato di nuovo, ragazzi. Non dovevo... Se si salva... Niente. Ma come l'ho uccisa? Ma... Niente, ragazzi. Non dovevo... Non dovevo assolutamente andarci con la W. Vabbè. Ci diamo un pochettino di oggettini. C'è skill top dog anche bot. E forse mi sa che c'ha ragione. Mi sa che c'ha ragione. Forse è meglio che si fidi Irelia. No, che torna 2-0. Regine sta più o meno allo stesso farm di Kaisa. Vabbè, dai. Segnaliamo che manca la bot. E proseguiamo così. Andiamo avanti. Ok. Lei è qui. Blitz non lo vedo. Ok. Finalmente. Abbiamo la ulti, ragazzi. Mamma mia. Gli ha fatto la barba. Mamid. Ma guarda, Ione, guarda. Ha una mobilità incredibile. Però, per fortuna, Nocturne. Che vogliamo fare? Andiamo a ingaggiare? Non lo so. Non so se siamo... Oh, questa mi è piaciuta. Vorrei trovare l'attimo fuggente, ma ho paura che Blitz mi grabbi. Ok. Vieni, vieni, vieni. Va bene. Peccato. Però è stato un buon trade. È stato un buon trade. Peccato non aver concluso. Ottimo lavoro di Nocturne. Bravo. Pensavo che prendesse, però... Ha preso il minion. Questa ulti è stata un po' così. Ma va bene. Io ho la ulti pronta, però... Non lo so se combino a usarla. Certo, se riesco, mamma mia, se riesco ad ingaggiare... Tra ulti e denied. Dovremmo farla una kill. È proprio easy. Vediamo un po' se... Se riesco a fare un passettino falso. Blitz mi sale. Ok. Mi era tornato il grabbo, quindi... Bravo. No. Ci ho provato, ragazzi. Oh, buono. Ottimo così. Via, via, via. No. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Volevo... Volevo... Dare la seconda kill a Jin, ma... Ho... Praticamente sottovalutato... Questo vuogono. Quindi andiamo un po' più resistenza fisica. E... Ho usato il TP. Dai, vediamo un po' se riusciamo a fare meglio. Considerate, raga, che... Sono comunque un po' arrugginito. Perché ho fatto, sì, molte partite all'holla. Ma non gioco più come prima. Assiduamente da... Da parecchio ormai. E poi, ovviamente, queste partite sono... Particolarmente sentite. Mettiamo una bella volta al drago. Ok. Torniamo a bot. Vediamo. Di riuscire a portare a casa la kill. No. Questa non ci voleva. Via, 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 via. Niente, non c'ho più ulti. Non c'ho più abilità. Non c'ho più niente. Niente. Eh, vabbè. Sono anche costretto a flashare. Voilà. Vabbè. Mi dispiace per Gin, ma... È andata così. Purtroppo l'hanno grabbato e per questo ci ha... Ci ha rimesso la vita. Questo che vuole. Ci può, ci può, ci può. Grazie per la frutta. Oh, oh. Arriva, 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 arriva. Eccomi. Vai, 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 vai. Niente, non meccano alcuni. Niente. Via, via, via. Niente. E però, lei non può rimanere così. Ragazzi, ora ci muoio. Ci muoio, ma ci devo provare. Niente. Eh, vabbè. Niente. Sorry. No, ci ho provato. Mi dispiace. Però dai, abbiamo completato almeno un oggettino. Quindi abbiamo le word. Va bene così, va bene così. Ok, cambiamo trinchette e torniamo, torniamo a bot da Gin. Si, affronti però da solo, Evelyn. Oh, dai, è andata bene, peccato. Forse riesce a ucciderla. Se non torna la bot. Riesce a farla. Qui, 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 qui. Vai, vai, vai. Eccoli qua. Bravo, bravo. Vieni verso di me. Via, via, via. Via. Eh, vabbè. Io ne. Se riesco a salvarlo, almeno lui. Niente. Che mobilità che c'è sto sempre. È assurdo. È assurdo. Vabbè. Prendiamo una pink. Che ovviamente non è pink. Eh, sì. Mi sa che la torre se ne va. Però, anche lui, si ha preso la pitta. Dai. Non è poi così male. Allora. Eh, qui, mi servirebbe una mano. Anche se. Ok. Non riesco a prenderla più di un tot. Va bene così, va bene così. Andiamo. Che lux ora? Voglio fare una follia. Eh, stanno tutti quanti là. Oh, buona. No. Ok. Via, via. Muoviti, lux. Dai, prendi sta kill. Ok. Ok. Sì, sì. Te lo lascio. Ti stiamo soltanto aiutando. Ok. Bravo. Mettiamo un po' di word. Eccola qui. Questa la vogliamo. Ok. Se prendiamo questa torre, non è male. Non è male. Facciamo quanto più danno possibile. Sì, sì, va bene. La torre intanto è andata. Ed è ottima. Bravo, 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 nocturne. Mid. Penso che è un giletto mid. Possiamo fare. Togliamo un po' di word, vabbè. Era prevedibile che fosse guardato. Abbiamo preso un'altra torre dopo. Il che è molto, molto positivo. Scriviamo che sta arrivando la bot. Attenzione che sta arrivando la bot. Via, 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 via. Allora, eccola qua. Cerchiamo di prendere tutti con la ulti. Vieni qua, vieni qua. Ok. Niente, non hanno perso un po' di vita. Niente. La vedo negativa. La vedo negativa. Niente. Ok, forse abbiamo abbiamo sottovalutato un po' la forza dei nemici. Niente. Tutti morti. Vabbè. Vabbè. Chiudiamo l'oggetto e prendiamo gli stivali. Ma forse ho della velocità. Ho i tabi. No, no. Vediamo questi qua della riduzione. Bot. Stay bot. Forse c'ha ragione, ragazzi. È meglio che puntiamo soltanto alla bot. Il problema è che stanno giocando molto di squadra. E stanno molto spesso uniti. Ora ovviamente vorrebbe il drago che io ti guardo. Che io ti guardo. e tu mi pinghi questo ma io non non posso prenderlo. Eh, ecco qua. Eh. Vai, 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 vai. Vai, nocturne. Va bene così, va bene così. Vorrei mettere una guardia senza morirci. Niente. Ma dai, ma che grabbea. Eh, vabbè. Colpa mia. Ottimo, ottimo, ottimo. Almeno abbiamo preso il drago. E forse, forse non sta andando così male. Ma... Ma quant'è rimasta? Ma dai. Eh, vabbè. Ma nocturne fa piazza pulita. Ci pensa lui. Andiamo a chiudere questa... Questa segnalina. Ok. Ok. Raga, io ho bisogno di aiuto dopo perché non credo di riuscire a fermare Wukong a meno che... Ecco, ok. Cambiata idea. Stop. Ping. Questa luce inizia a innervosirsi. Vabbè. Non è un problema. Assolutamente. Non è un problema. Io direi di andare di Redemption come secondo oggetto, ragazzi, perché devo essere quanto più utile possibile. Quindi torniamo a mid. Anzi, andiamo top. Andiamo ad assistere il nostro ADC. Ecco qua. Lo sapevo che stava qui. Non so dove dividermi. Mettiamo una word qui, ma... è sempre importante. E andiamo a mid. Attenzione che può essere qui. Sta succedendo un po' di casino. Vai, 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 vai. Vai così. Cazzarola. Niente. È complicato anche a schivare gli attacchi di... Oh, bello. Bello. Bravo. Però mi sa che ora devi andare via. Niente. Vabbè. E' difficile scansare gli attacchi di Ione. Forse perché non lo capito ancora come funziona bene. Però, tutto sommato. Ok, torniamo in late. Torniamo a mid. Andiamo a riuscire un attimino a... a compattare la squadra. Ma tu che vuoi da qui? Ok. Vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Loro stanno un attimo. Tu ci provi, però. Vieni, vieni, vieni. Vai, vai, vai. Tutta vostra, ragazzi. Dai, dai. Ok. Bravi, bravi. Attenzione, Ione. Attenzione, Ione. Arrivo, arrivo, arrivo. Arrivo. Ok. Perfetto. Perfetto. Bravi, bravi. Prendiamoci la torre mid. Se riusciamo. La bot sta pushando. Però penso sia più conveniente per noi pushare invece che tornare. Possiamo prendere torre inibitore, volendo. Vai, 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 vai. Anche l'inibitore. Mettiamo una ward. Ok. Ok, ok. Lui sta. Ok. Penso che dobbiamo andare back. No, no. Via, 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 via. Via, via, via. Vai, vai, vai. Ok. Buono, buono, buono. Ottimo. Ottimo. Bravi, bravi. Good job, guys. Bravi. Abbiamo appena salvato la vita a Lux forse che è un po' tiltatina. Tu, vai, via. Ok. Allora, chiudiamo anche questo. Torniamo velocemente ai posti pushbot. Ma perché fai così? Vabbè, in realtà si è un attimino immolata, ma ci è morta, quindi Wukong sta qui. Possiamo chiuderlo? ok. perfiscono fare il drago che ci sta. Ci sta un po' rischiosa, un po' rischiosa, però se togliamo le war e evitiamo i grab come prima, magari. Eccolo, eccolo. Ok. Ottimo. Abbiamo il quarto drago. molto, molto positiva. Come cosa? Non so se tornare becco, restare qui, ma meglio restare qua, va. Seguiamo Gin. Mettiamo qualche guarda in giro. Eccomi qua. Bravo. È stato bravo. però per fortuna avevo il flash. È stato bravo. Non me l'aspettavo. Vai via. Vai via. Niente. Niente. Volevo andare da da Nocturne, ma non ci sono riuscito. Sono molto arrugginito, ragazzi. Però l'importante è che il game vi piaccia e che vi rilassi. Good job, guys. Bravi. devo morire io prima che loro facciano cose buone. Io direi di fare il Baron e di push Charmitte. Loro invece di andare al Baron ovviamente fightano. Sempre giusto. Vabbè, io vi prendo un bel redemption. stavo anche in giro. Non lo vedo bene. No. Secondo me devono lasciarlo. Sì, sì, sì. Lasciate, lasciate. Vediamo un po' chi è in giro. Vabbè, fatto questo, io direi di andare un attimino ad aiutare Nocturne, ma non avrò mai il tempo. Ecco. Il fatto è che siamo troppo divisi. Siamo troppo divisi. Niente, Gin, un attimino a FK, credo. Mi cacciano tutti, ragazzi. Non mi vuole nessuno. Direi di andare a evit, non lo so, perché si è un po' sfalzato tutto. Adesso non ci sono più posizioni. Io direi di limitarci a prendere gli obiettivi come il drago, il paro e le torri. Occhio, se arriva, ci muore. Relax, relax. Ok. Attenzione al grab, attenzione al grab. Niente. Ci vado, dai. Vedete, venite. Vai, vai, questa si vince, questa si vince. Un redemption è un po' così, però. Oh, oh, e tu da dove esci? Ha una mobilità. E niente, vuol, niente, ha deciso di vincerla da solo. Attenzione, attenzione. Niente. Vabbè, almeno mi sono portato Eveline. Good job. Ma perché Nocturne fa così? We need to be careful with you and stay together. We can win. Cerchiamo di dare sempre un po' di coraggio alla squadra, perché arrabbiarsi, tiltare, ed essere toxic, ed essere toxic, lo sapete, non porta a nulla. Quindi, good job. E si va avanti, dai. Adesso ci facciamo, non so, se lo ho getto oppure questo. Facciamoci questo. Oggi cerchiamo di massimizzare il nostro scudo. Io sono convinto che ancora si possa vincere. Basta difendere ed andare insieme. Aumentiamo sempre lo scudo. Così siamo sicuri di dare un po' di sustain. togliamo un po' di ward e mettiamo una ward al Baron, che è sempre importante. Jean sta solo qui. Non so, andiamo al drago. Cioè, loro non la rischiano. Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Arriva, arriva, lo salvo. Vai, 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 vai. Ok. Ok. Forse avrei dovuto fare il... La becchiamo lei? Vieni, vieni, vieni. Ok. Forse avrei dovuto fare il redemption un po' prima, però è andata molto bene con Jean Paul. Niente. Wukong non vuole sapere nulla. Vuole vincerla a tutti i costi. È veramente un maledetto. Vai via. come se potessi ucciderlo. Dai. Ma tu da sola non puoi mai. Dai, proviamo a difendere. Stiamo vicino a Jean. Niente. Non so perché ho fatto questo movimento verso Jean che non è servito a nulla. Vediamo di riuscire ad aiutare Irelia. No, ma che sorrendi. Tranquilli. Ok. Buono. Vieni qui, vieni qui. Ok. Mettiamo una urla al drago perché questo ci vorrebbe. sarebbe ottimo se riuscissimo a prenderlo. Evita di farti grabbare. Evita di farti grabbare. Eh vabbè. Secondo me voleva provare a stilare il il drago ma ora ci muoio pure io. Dai, 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 dai. Vieni, 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 vieni. Meglio perdere la ulti che morirci. Ok. Recuperiamo un po' di vita. Lui ha usato il TP. Dovremmo difendere la bot. E credo ci pensi nessuno ci pensa. Ah, ok. C'è un nocturne. Io devo andare assolutamente a guardare. Io devo andare assolutamente a guardare il baron. Niente, mi tocca restare qui. E dobbiamo provare a ok. Let's try again, bro. Last fight. Dai, dai. Due su dieci. Niente, vedete Lux è proprio tiltata però a noi non importa. E support. Grazie, Raelia che prende le parti. Insomma, le difende. E le chiede and vabbè, è proprio arrabbiata. Oh, no, no. Dai, 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 dai. Ulti, ulti. Dai, dai, così. Buono. Buono. Ok. Come on, come on. Dai, che ce la facciamo. Dai, dai. Sempre ottimismo. Ottimo. 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 Ok, c'è anche Evelyn. C'è anche Evelyn. Qua ragazzi, mi ha shottato. Mi ha veramente shottato. Ma dobbiamo crederci. Believe it, guys. Dobbiamo crederci. Dai. Dai, dai. Push me, push me. E uno difende, dai. Comunque. Ottimo lavoro, ragazzi. Possiamo vincerla questa. Dai, dai. Good job anyway. We can this. Good job anyway. We can win this. Dai, dai. Your focus is bad. Ecco, F-Cup. Ma perché? Perché fanno così? Bro, we are going. We are doing good. Bro, we are doing good. Let's fight together. Dai. E niente. E niente. Molto, molto arrabbiato. Vabbè. Vinceremo anche la sua rabbia. Dai. Vinceremo anche la rabbia. Io sono ottimista. Questo game si vince. Ok, ok. Uniti, 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 uniti. Il problema è che si espongono tantissimo. Ok, ok. Ottimo. Ottimo. Bravi. Dai, dai. Facciamo un po' di pulizia qui. E riguardiamo tutti insieme. Dai. Dai, dai. Che ce la facciamo. Ok. Ok. Il focus è lei. Qui c'è Evelyn. Qui c'è Evelyn. Attenzione. Togliamo il suo scudo. Che non serve. Ok. Dai, vai, vai, vai. Così. Vai così. Ok. Io ci ho rimesso la pelle, ma sta andando più che bene. Grandi. Grandi, ragazzi. That's it. Grandi. Grandi, grandi. Oh, brothers. Let's win this. Let's win this. Dai, dai. Dai che si vince, dai che si vince. Ragazzi, io l'ho detto. Io l'ho detto. Bisogna sempre restare calmi. Era da un po' che non giocavo, quindi ero un po' arrugginito. Però, come vedete, so che è difficile, è difficile restare calmi, soprattutto quando beccate in squadra qualcuno che tilta tanto. Ma considerate che se tiltate anche voi è soltanto peggio. Quindi al massimo mutate. Ma non rispondete mai al toxic con il toxic, perché non porta a nulla. Ma l'abbiamo vinto oppure no? Dai ragazzi, ho fatto tutto questo comizio e non l'abbiamo ancora chiuso. Ok? Ok, ok. Dobbiamo confidare nel prossimo teamfight. Mettiamo un po' di ward. Bravo, Jin. Bravo. Keep calm. Puliamo un pochettino e mettiamo una bella ward. Dai. Dai che ce la si fa. Ok, facciamo un po' di polizia. Aspettiamo gli altri, vediamo di riuscire a vincere anche questo teamfight. Dai. Attenzione Lux, attenzione. Aspettiamo un po' gli altri. Dobbiamo cercare di restare uniti. Ok, avete buttato due ulti. Almeno portate a casa la kill. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok. Non lo so, fare questo drago è un po' rischioso, però. Oh, ottimo. Vediamo di riuscire a beccare lei. Ok. Vabbè, attenti ti lascia andare, tanto è inutile. Ok. Ottimo ragazzi, dai. Prendiamoci sto alter dragon. Lasciatela stare, lasciatela stare, andiamo a vincere. Andiamo a vincere. Dai. Grande. Let's go to win, guys. GGVP. Ragazzi, come vi ho sempre detto, restate calmi, restate tranquilli e sereni. E si vincono le partite. Si vincono, anche se sembrano difficili. Ok. Quindi spero che... Va bene, nel frattempo picchiamo un po' lui. Quindi spero, come sempre, che il video vi sia piaciuto. E... Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.